Durante la settimana io cercavo di convincermi, a me e a tutti, che non era una partita speciale per me, però era. Perché è impossibile di dimenticare qual era la partita a Mille. Io non mi volevo immaginare fra 10, 15, 20 anni di ricordare la partita a Mille come una partita scusa di merda. Volevo tanto vincere questa partita per queste ragioni, ovviamente per le ragioni più basiche, che è di vincere una partita importante per noi. Partita difficile, partita che poteva finire 6-6, 7-7, partita bella, partita che ha finito 2-1 per noi, poteva finire 2-1 per loro. Partita incredibile, di emozione, e dopo vincere nel modo come abbiamo fatto, con un gol incredibile, dove sembrava che la palla non voleva entrare, nella porta della curva, con tutte le emozioni lì, la squadra, la panchina. Fantastico, una meraviglia, una meraviglia per noi ovviamente, non per loro. Ha detto più volte, aspettatevi che arriverà un pareggio, arriveranno delle sconfitte, ma la Roma scenderà sempre in campo per vincere, e lo spirito l'ha dimostrato anche questa sera. Sì, anche noi in panchina, 1-1 con una partita aperta, abbiamo rischiato. Non abbiamo avuto paura di perdere, abbiamo messo tutto lì. Di solito tu metti tutti quando c'è un pareggio, però tu sei il dominatore. Abbiamo messo tutto quando la partita era completamente aperta, potevamo vincere noi, potevamo vincere loro. Gli abbiamo rischiato, i ragazzi non hanno avuto paura, anche qualcuno è in condizione di difficoltà. Qualcuno dirà che Patrizio ha fatto due o tre parate fantastiche. Grazie, Patrizio è il nostro portiere, è parte della nostra squadra, è lì per fare quello che lui ha fatto. E tutti, un spirito fantastico, una partita per non dimenticare. Misa, questo sicuramente è un bel ricordo, ritorno sulle mille panchine, perché coincidono anche con la prima corsa sotto la curva sud, e magari non è un caso. Il direttore Tiago dice che è giustizia divina, che Dio non poteva permettere che io nella mia partita mille non vinco. E anche lui ha deciso che la partita sarebbe con questo tipo di emozione. E veramente, se qualcuno pensa che io sono vecchio, ho provato con questo sprint che sembrava Jacobs, ho provato che sono fisicamente a posto.